my plant and garden tripudio di fiori a milano in fiera il mood del momento è sicuramente green and glam filosofia che abbraccia benessere bio consapevole e fashion eco sostenibile stile gusto amore per la natura benessere e rispetto per l'ambiente e questo il mondo green and glam scommetto che non avete mai sentito parlare dei ritratti musicali piano reflection una personalissima e irripetibile sinfonia che il pianista compone in maniera del tutto estemporanea basandosi sui volti delle persone e sulle emozioni che esse gli provocano e in effetti una sensazione unica e irripetibile una giornata all'insegna della filosofia del benessere e quindi anche bellezza in armonia con la natura e dulcis in fundo per coronare questa giornata una sfilata di accessori floreali floral and fashion design presentata dalla mia amica matilde calamai io mi sono intrufolata nel backstage coloratissimo e soprattutto profumatissimo andando a curiosare nel dietro le quinte di questa sfilata catturando qualche attimo della preparazione di queste modelle e allora ecco qualche istante del fashion flower voyage la sfilata dedicata al floral design come potete vedere tutte creazioni molto particolari adatti ad occasioni speciali come parti a tema o anche ad esempio matrimoni e anche stavolta da milano è tutto a presto con i prossimi video di eliscovery